Ci troviamo questa mattina davanti al sottopassaggio che collega il centro della città di Pesaro al quartiere Pantano, più precisamente tra l'inizio di Via Rossi e la fine di Via Bixio. Proprio in questo tratto stradale, nel quale un elevato traffico di mezzi si trova circolare quotidianamente, si è verificato l'ennesimo incidente. Il sinistro, che fortunatamente non ha registrato conseguenze gravi o di rilievo, ha comunque riaperto il dibattito, soprattutto sui canali social, sulla viabilità dell'area e sui diversi episodi che, troppo spesso, infrangono il rispetto delle regole da parte di chi si trova a transitare nella zona. Le principali problematiche denunciate dai cittadini riguardano, per lo più, la folta circolazione di biciclette, che in diverse occasioni mancano di seguire le corrette indicazioni stradali. Non sono una novità, infatti, le segnalazioni di ciclisti che percorrono contro mano e quindi verso il centro, l'intero asse di Via Rossi, nella quale la regolare circolazione a due ruote è consentita unicamente in direzione Pantano. Altrettante volte è stato segnalato il passaggio di biciclette sui marciapiedi e nel tratto di sottopassaggio dedicato ai pedoni per evitare l'attesa al semaforo. Ci sono molte biciclette che transitano sui marciapiedi anche in modo veloce, quindi quando usciamo dal negozio una cliente esce, infatti è successo due volte che l'hanno presa sotto, quindi è un problema anche una cliente con un bambino piccolo, un passeggino, quindi incomincia a essere un problema e in più vanno anche contro mano sulla strada, quindi veramente rischioso. Un problema che dura da un po' di tempo? Da anni, diciamo sì, parliamo di anni, sì. Il passaggio con Rosso nei vari punti dell'incrocio è stato denunciato più volte, anche per le automobili, che in diverse occasioni si trovano inoltre a viaggiare a velocità elevata. Una situazione pericolosa, visti anche gli attraversamenti pedonali adiacenti proprio ai semafori. Tutte situazioni che, nel tempo, hanno portato a registrare incidenti principalmente tra i mezzi citati, auto e bici. Tra i commenti comparsi in merito alla discussione, diversi sono stati gli utenti che hanno lanciato la possibilità di modificare la viabilità e la circolazione della zona. Tutte ipotesi difficili da realizzare. Come ha evidenziato l'assessore all'operatività del Comune di Pesero, Enzo Belloni, il quale è intervenuto ai nostri microfoni e ha sottolineato come sia per i ciclisti che per le automobili sia necessario rispettare le regole di circolazione. Misure alternative faccio fatica a pensarle. Ieri leggevo sui social due mini rotatorie, addirittura allargare il ponte della ferrovia. Quello di allargare il ponte della ferrovia è fante ingegneria, può diventare, pensando che ci sono le case a destra e a sinistra. Solo per avere un'autorizzazione per aprire un parcheggio passano sei mesi, figuriamoci, per fare un ponte dove dovresti in teoria chiudere la linea ferroviaria non so per quante ore al giorno e per quanti mesi durante l'anno. Quindi vale la pena aspettare tre minuti, rispettare il semaforo, come dovrebbe sempre essere. Magari non tutti facciamo, per evitare poi problemi al ciclista che passa col rosso, all'autobinista che magari si deve prendere una responsabilità che lui non ha. Perché poi quando qualcuno si fa male, penso che la coscienza ce l'abbiamo tutti. Possiamo ragionare e scatenare tutti i tecnici del web, ma io penso che la soluzione vera è quella che c'è e che si sta attuando adesso, quindi il semaforo. Mentre leggevo anche su via Flaminia e via Fratti, lì una rotatoria potrebbe essere in qualche modo ipotizzabile. Una volta realizzata l'interquartiere di Muraglia, pensare a una viabilità differente in quel tratto, via Rossi e via Bixio, mi sembra difficilissimo.